lo chiamano effetto cina è la ripresa nata dall'apertura delle frontiere di quel paese della campagna di sensibilizzazione contro il covid e pro vaccino il ministero della salute raccomanda e consiglia la quinta dose alle persone di età superiore agli 80 anni agli ospiti delle strutture residenziali per anziani alle persone con età superiore a 60 anni ma con una fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti naturalmente vale per tutti il tempo che deve essere trascorso dalla quarta dose o dalla immunizzazione da contagio cioè almeno 120 giorni stesso fronte quello del covid ma approccio diverso sulle norme che regolano l'isolamento il sistema diventa più lasco soprattutto con gli asintomatici le persone risultate positive al test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposte a misura dell'isolamento per i casi asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno due giorni l'isolamento stesso potrà terminare dopo cinque giorni dal primo test di positività o dalla comparsa dei sintomi a prescindere dall'effettuazione dell'antigenico o della molecolare ci spiega meglio il dottor rossano di luzio per quando riguarda l'isolamento se una persona è asintomatica bastano cinque giorni dopodiché può può terminare l'isolamento anche se risulta positivo dopo cinque giorni può uscire di casa sì perché non c'è la normativa dice non si prevede il tampone di negativizzazione se uno è stato sempre asintomatico non c'è bisogno del tampone che confermi la negativizzazione del del covid scusi io faccio un po' l'avvocato del diavolo ma dopo cinque giorni anche se sei asintomatico siamo sicuri che non sei contagioso o no? La sicurezza non c'è però la carica virale è bassissima per cui dovremmo stare tranquilli comunque si consiglia sempre a tutti o sintomatici o non sintomatici o persone sane di continuare a portare le mascherine specialmente nei luoghi affollati nei mezzi pubblici oppure nei negozi oppure nel cinema insomma là dove c'è un po' di affollamento di persone aggregazione di persone è meglio continuare a portare la mascherina infine il capitolo dei cosiddetti contatti stretti a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al covid è applicato il regime dell'autosorveglianza durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto grazie a tutti